guardiamo con i cavi no, va bene, va bene è stato appassato la quadra anche la Pio Maxi non è stata frana ma non si fa si sta mandando così bene le macchine che mi servono anche questa gioia se le importa lo che è la paella è caldo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.